allora l'ultima discesa dell'anno marianna gane come dicesti una volta questo è l'ultima diamogli un senso e io non lo pillo perché già marianna gane come ci sia arrivato sventolato però c'è le folle e quella radice di traverso è quella ma che è sempre stato così lì ma è male 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 pronto ma vaffa è nell'energia cioè stamani non c'è pace il corriere il caldaista da anche l'energia rompe un leone comunque manca ancora il caldaista ma è male la luce è al suo peggio eh perché è proprio basta di taglio si non si vede niente oh bello bello anch'io sisa ho saltato il sasso oh il sarto sul sasso l'avevo sempre scansato andavo più a sinistra invece ora oh mamma quanto ci è mancato va via davanti e dietro non sento scerpa questo però non è tanto bello il sarto eh questo però non è tanto bello il sarto eh questo però non è tanto bello il sarto eh qui c'è anche lo incendio qui c'è anche il cibo che riusciamo eeeh 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 mi sonoaa porca bastarda no cioè maremma avvelenata pronto